dei personaggi tossici quando abbiamo a che fare con i manipolatori. I manipolatori sono persone che rendono la nostra relazione totalmente tossica, totalmente negativa, totalmente nefasta. E quali sono le modalità con cui le persone tossiche optano, mettono in atto il controllo mentale, perché poi di fatto le persone tossiche mettono in atto il controllo mentale. Nel frattempo ovviamente spolli già in su, metti un like, così facciamo girare il video, se vuoi abbonarti al canale puoi farlo, se vuoi fare una donazione al canale puoi farla, ma se per te anche un euro è un impegno eccessivo fai, diciamo almeno metti un like. E allora per controllo mentale si intende una manipolazione che poi alla fine mira a privare la vittima, tra virgolette, del controllo mentale, di un proprio pensiero, ma soprattutto di eliminare la sua capacità decisionale. Quindi è un lavaggio del cervello fondamentalmente. Avere a che fare con una relazione tossica è avere a che fare con un lavaggio del cervello, con persone che in qualche modo, diciamo, ti convincono ad adottare, a mettere in atto delle idee persino contrarie a quelle che sono le tue credenze, persino contrarie a quelle che sono le tue convinzioni. E quindi queste relazioni tossiche, diciamo, vieni completamente soggiogata, completamente distrutta. La prima strategia che mette in atto chi ti controlla è quella dell'isolamento fondamentalmente. Quindi non devi mai accettare di essere isolata, perché vediamo qua qual è la strategia manipolativa e qual è l'antidoto. La prima strategia manipolativa è proprio quella dell'isolamento. E il controllo mentale della vittima richiede anzitutto lo suo isolamento sociale, cerca di isolarti, perché in particolare isolarti dalle persone che sono più vicine a te, dalle persone che ti sono amiche. Questo è un po' quello che fanno anche molti narcisisti con l'off bombing, cercano di farti sentire più amata da loro rispetto ad altre persone. Quindi una volta che hanno potenziale, si contrappongono alle altre persone. E quindi è una volta che sono riusciti a conquistare il tuo amore, perché tu gli darai amore, e questo dobbiamo tenere presente perché tu gli darai amore, è quello di, diciamo, allontanarti dalla famiglia, allontanarti dagli amici più cari, cercano di impedirti di contattare le persone a cui vuoi bene. E quindi questa strategia, diciamo, fa sì che ti coinvolgono, ovviamente, ancora di più. E poi c'è un'altra tattica che usano per conclamare il tutto, è quello di spingere, ti fanno cambiare delle cose. Spesso ti fanno cambiare il look, ti dicono, ah ma staresti meglio con un altro taglio di capelli, staresti meglio così, staresti meglio cosà. Quindi iniziano da piccole cose per spingerti a cambiare la tua immagine, a cambiare il tuo modo di vestire, a cambiare il tuo modo di essere. E questo ti lega ancora di più a loro. Questo è fondamentale. Quindi tu evita assolutamente di interrompere i contatti con le persone a te cari. E pensa che se una persona cerca di farti questo, non è una persona amica, ma è totalmente una persona nemica, è una persona tossica, è una relazione tossica, è una relazione nefasta, è una relazione sbagliata, è una relazione da cui ti devi allontanare, la devi guardare oltre. Quindi prendi atto di questo, è un punto molto importante, è un punto fondamentale, il fatto che tu prenda atto che questa tipologia di persone è una persona, sono persone totalmente tossiche. È importante, è un'altra tattica che utilizzano, è quella di disapprovare e ridicolizzare il tuo comportamento per compararti in modo fallimentare rispetto ad altri. Una strategia che utilizzano è la comparazione fallimentare. Vogliono procurarti vergogna, vogliono farti vergognare per svalutarti. Quindi il loro obiettivo è quello di minare la tua autostima, minare quella che è la tua capacità di intendere le cose. Ovviamente se tu accetti questo, non accetterai te stessa, non accetterai te stesso. Dicono delle frasi come quello che stai facendo è veramente stupido. Sempre il solito. Un saluto a Patrizia Perotti. Ciao Patrizia. E ricordo a tutti che se volete entrare in chat potete farlo. Se volete abbonarvi al canale, fare una donazione al canale potete farlo. Basta andare nella homepage per l'abbonamento e sotto il video per la donazione. ecco quindi che loro cercano di disapprovare, ridicolizzare il tuo comportamento per suscitarti vergogna. Dicono delle frasi del tipo questa che stai facendo è una cosa infantile, questa è una cosa sbagliata, da te mi aspettavo di più, da te mi aspettavo qualcosa di diverso. Ecco tutto questo per compararti in modo fallimentare rispetto ad altre persone. E la cosa migliore in questo caso è assolutamente evitare di sentirsi inferiore agli altri. Non devi permettere a nessuno, neanche al Papa, di farti sentire inferiore a qualcun altro. Perché tu non sei inferiore a nessuno, anzi potremmo dire che sei sullo stesso livello di tutti gli altri. Quindi è un'altra tecnica da evitare che usano molto spesso i personaggi tossici all'interno delle relazioni tossiche e la tecnica del metterti un out out, una scelta, o me o gli altri. Chi non è con me è contro di me. Questa è un'altra frase manipolativa che utilizzava anche lo stesso Gesù, che anche lui avrà manipolato, quando dice chi non è con me è contro di me. Che se ci vai a vedere bene, insomma, non è che ha tanto senso. Ma il personaggio tossico, sia narcisista o chi per esso, utilizza molto spesso questa frase o sei con me o sei contro di me. E quindi se uno ti dice o sei con me o sei contro di me, mi spiace, ma sono contro di te, quindi levati dai coglioni. E questa è la risposta che devi dargli. E l'antidoto a questo veleno, un saluto a meravigliose, questo è l'antidoto a questo veleno di questa relazione tossica. Per cieca obbedienza poi un'altra cosa che vogliono fare è creare una cieca obbedienza. Fai pure la domanda, meravigliosa, ottenere cieca obbedienza. Quindi cercano di stabilire delle regole, di mettere delle regole, in modo tale che se tu eseguirai le istruzioni, diciamo, sarai sotto il suo controllo mentale. E ti costringe in tante cose. Alcune volte, ad esempio, una persona, magari questo lo fanno molto gli uomini, vengono a letto con te e poi ti dice che vuole un'amicizia. E questa è un'altra bella. Prima ti tromba e poi ti dice, beh, ma io e te siamo suoi amici. Ecco, questo è un doppio legame, no? Ovviamente, quando le persone fanno così. Perché prima ti trombo dicendo magari, o non dicendo niente, ma comunque facendoti intendere che sei la persona, diciamo, interessante. Ma qua non c'è altra soluzione che mandare a fanculo le poche volte che ti cerca. Non c'è altra cosa da fare e guardare subito verso altre persone. Perché deve percepire di non averti più. Assolutamente deve percepire di non averti più. Quindi, se ti manda buongiorno, non rispondere buongiorno. Se ti cerca, non rispondere assolutamente. Non che devi bloccare, ma devi semplicemente ignorare e nel frattempo pensare che, come dire, con Mario è andata male e che trovi altre persone. E quindi devi fartene una ragione. Non ci sono altre soluzioni. L'unico modo è quello a sfregio di fargli intendere che stai frequentando altre persone, che con altre persone ti trovi bene e non ci sono altre possibilità. Salutiamo anche Chris e amore psiche. Quindi questa è l'unica cosa che puoi fare. Salutiamo anche Irene. Quindi un'altra tattica. Ignori e quando ti cercherà, fanculo, sono impegnata. Semmai ti cercherà. E non ci sono altre soluzioni. Questa è l'unica cosa che puoi fare. Allora, un'altra metodica, diciamo, che utilizzano le persone tossiche è quella della cieca obbedienza. Per cieca obbedienza intendo la propensione, diciamo, del personaggio tossico a metterti delle regole e, tra virgolette, metterti delle regole che se tu le esegui in qualche modo, torna come prima, non lo sappiamo, ma tu devi liberare. Ecco, questa è la vera natura disfattista delle persone. Quando una persona dice, ma poi se faccio così, se se ne va, ma questo non c'è mai stato. Non è che uno ha la sfera di cristallo per sapere se torna come prima, non torna come prima. Ma intanto dobbiamo dare dignità a noi stessi. Perché se non diamo dignità a noi stessi siamo delle merde. Quindi non dobbiamo assolutamente essere delle merde e dare dignità a noi stessi. Poi lui faccia quel che faccia. Io sono quel che sono e mi comporto con dignità. E di una persona così non la piglio neanche in considerazione. Per me può andarsene a fanculo in seduta stante. E vado sicuramente con altre persone. Frequento altre persone e mi faccio i cazzi miei. Poi succede quello che succede. Sicuramente al contrario diventerai, ecco, creerà una situazione di questo genere come cieca obbedienza. Questo è un qualcosa che dobbiamo tenere presente. Dobbiamo tenere presente che le persone, diciamo, intendono con cieca obbedienza la propensione a dettare delle regole e a, diciamo, ammettere delle regole. Ma la cosa fondamentale è, non è preoccuparsi di quello che succede, se questo torna, non torna, come torna, ma dare dignità a noi stessi e non accettare le regole che qualcuno impone agli altri. Dobbiamo invertire la clessidra, dobbiamo essere noi che dettiamo le regole, dobbiamo essere noi che mettiamo i vincoli, perché se siamo vincolati sentiamo dolore. Quindi dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale, saluto anche Irene e Chris, che le propensioni, diciamo, della vittima a rispettare le regole del manipolatore, anche quando sono contrarie al proprio codice morale, al proprio codice etico, è la cosa peggiore che noi possiamo fare. Quindi non dobbiamo mai, mai e poi mai, per nessun motivo, ce lo chiedesse anche il Papa, ce lo chiedesse anche Gesù sceso in terra, fare delle cose che vanno contro quelle che sono le nostre idee, quelli che sono i nostri valori, quelle che sono, quelle che per noi non sono etiche. Questo è un punto fondamentale. Altra cosa, smettere di chiedersi perché una persona fa delle cose. Ma perché mi manda il buongiorno? Perché intanto non sarai mai nella sua testa e non saprai mai perché ti manda il buongiorno. Probabilmente per mantenere un contatto, ma non deve fottertene niente. Mandare il buongiorno ha la stessa valore di una scoreggia. Che cosa costa fare una scoreggia al giorno? Niente. È quello che costa mandare il buongiorno. Quindi non ha nessun valore. E intanto un saluto anche a Dalma. Ricordo che chi volesse entrare in chat può, basta essere iscritto, che chi vuole, diciamo, iscriversi al canale si può iscrivere. Iscrivetevi anche al nuovo canale Cammino iniziatico con Massimo Terramasco. Facciamo arrivare a mille questo canale. Cammino iniziatico con Massimo Terramasco. E vi ricordo che questo è il punto fondamentale. Tornando ancora al ragionamento precedente. Tornando ancora al ragionamento precedente. Quindi non dobbiamo mai accettare che le persone impongano quelle che sono le loro idee, le loro direttive nei nostri confronti. Dobbiamo semplicemente sbatterci nei coglioni. E non dobbiamo ovviamente fare delle cose. Tra l'altro un'altra cosa che fanno spesso le persone tossiche è quello di concederti qualche vittoria. Concederti qualche cosa interessante. Dobbiamo evitarlo assolutamente. Quando abbiamo a che fare con una persona che ci dà il contentino, non dobbiamo accettare il contentino. Perché se no, se accetti il contentino è come accettare il messaggio al giorno. È come pensare che un messaggio al giorno voglia dire qualche cosa. È come pensare che ad esempio, come possiamo dire, la nostra Marilyn è un qualcosa di molto importante. Ma a noi non importa vuole un contatto o non vuole un contatto. La cosa fondamentale che noi dobbiamo fare è frequentare altre persone. Frequentare altre persone. Punto. Non so, dipende dal tipo di relazione che c'è stata in una situazione. Se una relazione è nata dove ti mandai un messaggio al giorno e quella era la relazione, allora la relazione è di un messaggio al giorno. Ma se prima c'era una relazione in cui due persone si vedevano, due persone interagivano, due persone avevano una relazione concreta, allora è un altro dato di fatto, no? Questo è da tenere presente, no? Questo è da tenere presente. Io poi non so qual è il concetto. Dipende dal tipo di relazione che c'è stata tra due persone. Poi la risposta è quella. Dipende dal tipo di relazione che c'è stata. Perché ci sono persone che confondono anche una volta che hanno avuto un unico contatto di natura sessuale e pensano che quello si è innamorato di voi. Cioè dipende dal tipo di relazione che c'è. Perché spesso le persone fraintendono, no? Non è che perché uno è venuto una volta a letto con te doveva essere innamorato o doveva fare chissà che cosa. Quindi comunque rispondo alle domande solo delle persone abbonate. Quindi lì c'è, non fatemi domande se non siete abbonati, se volete le risposte dovete abbonarvi al canale. Questo è il punto fondamentale. Oh, un saluto anche a Marzia Fanale. Ciao Marzia. Quindi dobbiamo tenere presente questo, no? Se una persona una volta ti vedeva, ti preparava al pranzo e così via, poi è sparita. E tu, non è che il messaggio al giorno fa qualcosa. Un messaggio al giorno è come una scorreggia al giorno, non costa niente farla, ci vuole un secondo e punto. Bisogna avere il coraggio di guardare oltre. Quando una relazione, a proposito di scorreggia, è una relazione di merda, bisogna andare oltre, guardare oltre e fare altro. grande Marzia, Marzia Canale, che ho anche intervistato, la nostra psicologa, psicoterapeuta mi sembra di Palermo, se ricordo bene, beh, mi sembra di sì. Quindi, tra l'altro, appunto, accettare le briciole, come diceva la nostra Marilyn Monroe, che è stupida non era, accettare le briciole vuol dire essere delle formiche. E quindi, se tu pensi di essere una formica, accetta le briciole, altrimenti, altrimenti niente. Un'altra, grazie, grazie Marzia, un'altra tattica che usano spesso le persone tossiche sono quelle della ripetizione. Cioè, ti ripetono ossessivamente le stesse cose. Le persone tossiche sono ripetitive e ossessive. Cioè, come se non avessero nient'altro da dire, continuano a ripetere gli stessi concetti ossessivamente. E questo produce una sorta di lavaggio del cervello, no? Perché se uno ti ripete continuamente una stessa cosa, prima o poi questa cosa ti entrerà nella testa perché riuscirà a fare breccia, diciamo, in un momento in cui tu magari ti senti più debole, in cui magari, che ne so, forse vivi anche delle situazioni emotivamente rilevanti per cui noi sappiamo che quando siamo emozionati i messaggi tendono a diventare delle suggestioni, no? Tendono a penetrare dentro. E quindi una tattica che usano proprio le persone tossiche che è quella stessa tattica che usavano i cinesi quando facevano il lavaggio del cervello è quello di ripetere costantemente le stesse cose. Quindi tendono a ripetere, ripetere, ripetere fino allo sfinimento. Fintanto che tu crederai che quella cosa che ti dicono è reale. È reale perché te l'hanno ripetuta tante volte. Ma è quello che fa anche il mainstream, ad esempio, che ci ripropone la stessa narrativa tutti i giorni allo stesso modo. E quindi la stessa narrativa viene riproposta tutti i giorni costantemente nella stessa modalità. E questo è evidente che prima o poi farà l'effetto perché diventa per te naturale. Creano un'abita, un'abitudine, deriva da abito, qualcosa di cucito addosso su di te. Quindi fai attenzione, questo sia nella manipolazione sociale, sia nella manipolazione, diciamo, individuale, a non, diciamo, a prendere in considerazione altri punti di vista, non soltanto sempre e solo quel punto di vista lì. Per questo è importante non lasciarti isolare, per questo è importante interagire con tante persone, per questo è importante interagire con persone diverse. Poi altra tattica che utilizzano le persone tossiche sono i discorsi privi di senso. Cioè ti trascinano in lunghe conversazioni prive di senso, ti fanno domande che sono prive di senso. Lo fanno soltanto in questo caso per indurti a discutere, per tenerti agganciato. Fate attenzione a quando persone iniziano a farti domande che in realtà non hanno un senso, sono divagazioni, discorsi privi di senso. Talvolta cercano anche delle polemiche prive di senso, ti fanno delle domande ah, ho fatto questo, ho fatto bene, ah, guarda che capelli che ho, ti piacciono, ah, guarda che ne so, questa roba qua ti piace, non ti piace, ti tirano in discorsi e in situazioni di cui a te non te ne fotterebbe un cazzo, in situazioni di cui a te non te ne frega assolutamente nulla. Eppure è una tecnica, quella del discorso privo di senso, abbastanza usata, perché cercano di farti fare comunque un focus su di loro. E bisogna rendersene conto, no? Se una persona ti dice, ah, ti piacciono i miei nuovi capelli, fanno schifo, fanno letteralmente schifo, mi stanno letteralmente sulla punta dell'uccello. Questa è la risposta che devi dargli, eh, ti piace la mia nuova giacca, mi fa letteralmente cagare. E questo è quello che perlomeno devi pensarlo, e poi se per educazione non li rispondi va bene, ma altrimenti quello che devi rispondervi mi fa letteralmente schifo, mi fa vomitare, mi fa venire i conati di vomito. Altre cose, altre strategie che utilizzano sono le generalizzazioni. La generalizzazione diciamo, se l'uccello non c'è, mi sta sulla punta del clitoride. Non lo so, che è la cosa più simile all'uccello che hanno le donne. Mi sta letteralmente sulla punta del clitoride. La generalizzazione, diciamo, generalizzare è un qualcosa che le persone, che le persone utilizzano per, diciamo, anche qua per divagare, no? Dicono cose generali che, nelle quali tutti si possono identificare, no? È una strategia utile anche la generalizzazione quando si vuole interrompere la conversazione o magari ridicolizzare l'opinione dell'altro. Sono le tre strategie, diciamo, della PNL, anche la distorsione. Spesso le persone tossiche distorgono le parole che tu hai detto, distorgano le cose che tu hai detto e comunque, in ogni caso, ti mettono in bocca delle cose che tu non avresti voluto avere in bocca, ma te le mettono in bocca, delle parole che pensi che siano, che tu non hai mai detto, ad esempio. Osserva la discrepanza tra il linguaggio verbale e il linguaggio non verbale. È fondamentale questo perché se riesci a cogliere la discrepanza tra quello che una persona dice a livello verbale e quello che dice a livello non verbale, beh, spesso le persone, ad esempio, rascano, vanno indietro, quando dicono alcune cose, inizio a rascchiare io, ti fanno capire che comunque sono persone tossiche. Devi riprendere il controllo della tua mente, devi prevenire il lavaggio del cervello e devi tenere presente che tu hai la libertà di mandare a fanculo chiunque. Questo è un punto fondamentale. Hai la libertà di levarti dei coglioni tutte le persone che non ti danno benessere. Non ti devi sentire assolutamente obbligata o obbligato a fare delle cose che non ti va di fare. Ognuno sei proprietario di te stesso, quindi hai diritto di salvaguardarti. Cerca anche di scoprire quali sono le menzogne. Io nell'altro canale sto facendo un seminario su come capire le menzogne. Ed è molto utile capire se una persona ti mente, ad esempio. Quindi ci sono tutta una serie di strategie. Il mondo della menzogna è un mondo complesso che è fatto da microespressioni, da tante cose. Noi dobbiamo cercare, ad esempio, di capire qual è la baseline, diciamo, di una persona per capire tutte le variazioni, microespressioni, eccetera, che ci possono dire che una persona sta mentendo, ovviamente. Ce ne sono tantissime. Movimenti delle labbra, microespressioni del viso, lapsus gestuali, tutta una serie di cose che lapsus verbali, utilizzo di parole particolari, insomma, che ci fanno capire che quella persona lì sta mentendo le assimmetrie nelle posture, insomma, ce ne sono tante. Quindi è importante imparare a raccogliere tutti questi segnali per renderci conto che quella persona, il dito medio, giusto, perché quella persona ci sta in qualche modo mentendo, che ci sta in qualche modo truffando fondamentalmente, o dice delle cose che in realtà non pensa. E quindi tutte queste tipologie di persone, quando ci siamo resi conto di questo, ci togliamo dai coglioni. Non stiamo lì a dire ma lo voglio, non lo voglio, no, leviamoci dai coglioni. Intanto, come dire, il mondo è pieno di persone, una più, una meno, non cambia niente. Quindi questo è quello che dobbiamo fare, è mettere tutti questi antidoti.